Prosegue senza soste la vaccinazione al Palafiere di Via Tirino a Pescara, oltre 2000 vaccinati nel weekend, 1000 nella giornata di oggi. Assessore si continua ad andare avanti? Sì, si continua ad andare avanti. Sono numerosi i vaccini che vengono somministrati ogni giorno. Come dicevi, tra sabato e domenica oltre 2400 vaccinazioni circa, oggi oltre 1000 vaccinazioni. La nostra struttura con l'organizzazione è capace di rifarne di più, quindi aspettiamo una comunicazione da Arle che ci dia la possibilità di somministrare più vaccini possibili per accorciare l'immunizzazione e avere un'estate covid free a Pescara. La dimostrazione è che questa dotazione strumentale che il Comune ha anche dotato questa struttura con le prenotazioni online per gli ultra quarantenni e prima ancora per gli ultra cinquantenni è vincente, tant'è che sono andati esauriti tutti i posti. Aspettiamo l'apertura alle altre classi di età per poter andare sempre ai più giovani e raggiungere ovviamente tutta l'immunizzazione per quest'estate. Tra poco ci saranno anche gli esami nelle scuole, avete delle comunicazioni in merito alle vaccinazioni per chi dovrà sostenere gli esami o è ancora presto? Allora, questa è una comunicazione centrale che non ancora arriva in Comune, venerdì avremo il Comitato Ristretto dei Sindaci, probabilmente ci sarà data comunicazione in quella sede. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, accelerare anche su queste classi di giovani cittadini pescaresi, non solo visto che sono aperti a tutta la provincia. Abbiamo una struttura pronta per aggredire quello che è il virus e la vaccinazione il prima possibile e passare quest'estate pescaresi con la banniera blu e libera dal covid. Abbiamo una struttura per aggredire quello che è il virus e 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 il virus.